e come promesso anche il video sulla fiorentina in una serata veramente atomica che io mi sono recuperato quella fiorentina dopo perché stavo seguendo però a sport berrettini rude peraltro berrettini tifoso viola quindi insomma è stata una serata bellissima con berrettini che ha vinto con la fiorentina che ha vinto con un tifoso viola che ha vinto quindi veramente è stata una serata bellissima a tutti gli effetti che dire ragazzi è una vittoria che vale la salvezza è una vittoria quasi una stagione ed è la vittoria di beppe iachini perché è inutile negarlo come ho detto poco fa anche per sinere berrettini questa cosa mediatica tra prandelli e iachini la si è notata perché una stampa che comunque con prandelli sempre agiva con l'occhio di riguardo sempre certa un certo distacco sempre con sempre con quell'occhio di riguardo sempre con quell'occhio di favore verso prandelli è il maestro dei calci incontestabile prandelli beh iachini invece il capro rispiatorio il male il la causa di tutti i mali e invece beppe iachini sta conducendo la nave fiorentina in porto e è una fiorentina ovviamente non spettacolare quella di beppe iachini però è una fiorentina umile è una fiorentina operaia è una fiorentina che la vittoria di ieri e questa salvezza la sta conquistando con il sudore la sta conquistando con con pane e salame la sta conquistando con i vecchi dettami la sta conquistando non con chissà quale roboanze chissà quale calci champagne e però la sta conquistando con questa umiltà e gliachini è questo cioè per la salvezza è perfetto perché a me dava molta più sicurezza ve l'avevo anche detto quando è andato via prandelli da molta più sicurezza gliachini per la salvezza a parte perché vede una squadra più coesa più convinta più compatta più determinata prima vedevo una squadra con brandelli un po più sfilacciata una squadra che era un po confusa tante volte per quello che doveva fare che brandelli la cosa anche che non mi piaceva e che rilasciava certe dichiarazioni magari bene stiamo lottando per la salvezza adesso siamo umili magari faceva una partita difensiva faceva una partita anche troppo difensiva perché tante volte gliachini a difensivista catenaccio tante volte brandelli ha messo delle formazioni più difensive poi appena la squadra vinceva una partita e la situazione di classifica si faceva un po più serena ecco che brandelli provava a sorprendere provava la difesa a quattro provava qualche esperimento un po strano provava a portare il gioco ma è semplicemente se in questo momento non lo puoi portare se in questo momento sei invischiato in certi tipi di lotte e devi affrontare questo campionato con un certo atteggiamento con l'umiltà con con serenità anche cercando di uscire da questa situazione in maniera assolutamente umile e in maniera in maniera seria senza andare a mettersi in qualche vicolo strano fatto di esperimenti di di chissà quali sperimentazioni tattiche tecniche invece affidarsi magari a delle certezze e gli achini veramente da quando è tornata la fiorentina pian pianino abbiamo sempre più rivisto la sua fiorentina una fiorentina appunto operaia una fiorentina che non incanta una fiorentina che ottiene le vittorie che deve ottenere ottiene i punti che deve ottenere negli scontri che deve ottenere ieri sera con una Lazio sotto tono è stata una fiorentina invece assolutamente determinata che è sceso con lo spirito giusto in campo io sono d'accordo con il commento di un utente che mi ha detto che la vittoria dell'andata con la Juve era una prestazione inferiore a quella che c'è stata proprio al ritorno con la Juve perché abbiamo visto una fiorentina che ha messo sotto anche dal punto di vista del gioco la Juve per tanti per larghi tratti della partita come è successo ieri con la Lazio è una fiorentina che proprio scende in campo con lo spirito giusto con la determinazione giusta e poi adesso sta raccogliendo anche il gol di un attaccante che ha 21 gol in campionato ma 21 gol in campionato con la fiorentina con una squadra che non è che produce una mole di occasioni da gol incredibile valgono più di 21 gol in altre squadre perché 21 gol alla fiorentina vuol dire che veramente tante occasioni anche se le crei tu e danno una media di realizzazione per l'occasione del gol altissima perché 21 gol per magari un attaccante anche di non di primissima fascia che gioca magari in squadre che producono che fanno gioco che mettono anche l'attaccante nelle condizioni e disegnare chiaramente appunto è più facile Vlaugic sta dimostrando di essere un grandissimo attaccante in questi mesi sta maturando ed è riuscito ad arrivare anche a cifre realizzative straordinarie e a maturare proprio anche nel fatto di prendersi sulle spalle l'attacco della squadra e in questi mesi si è completato ancora di più come attaccante poi mi è piaciuto anche il centro campo la difesa arcigna ieri sera solida e ieri è stata veramente una bella una bella fiorentina una fiorentina che mi è piaciuta proprio nell'atteggiamento mi è piaciuta proprio nello spirito per come è scesa in campo e per come è andata a prendersi di forza questa vittoria che era da ottenere e che la Viola ha ottenuto in maniera assolutamente legittima e meritata per come ha affrontato questa partita e sono tre punti fondamentali che ti consentono di vivere intanto lo scontro diretto di Cagliari in maniera più serena perché hai la possibilità di pareggiare hai la possibilità anche di perdere perché hai margine di errore a questo punto hai margine di errore la salvezza è vicina speriamo già mercoledì di ottenere la salvezza così festa finita e si comincia a programmare per la prossima stagione però anche per la prossima stagione non basta per me cambiare l'allenatore bisognerebbe un po' riformare anche la società perché la società per me viene anche prima dell'allenatore perché poi l'allenatore deve essere messo nelle condizioni giuste di lavorare come dicevamo l'altro giorno che Murigno alla Roma deve essere messo nelle condizioni corrette di allenare altrimenti è ovvio che è anche difficile arrivare a certi risultati invece bisogna intanto partire dalle fondamenta mettere persone che sappiamo essere in grado di gestire e di far partire un progetto come si deve e a quel punto avviare un progetto tecnico a medio e lungo termine con un allenatore magari rampa di lancio però prima bisogna partire dalle fondamenta bisogna partire da un bel ripulisti e una rivoluzione proprio a livello dirigenziale fatemi sapere voi invece nei commenti che cosa ne pensate una valanga di mi piace il video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatta forza viola sempre anche nelle difficoltà perché è stata una stagione forse ancora più difficile di quella precedente e a questo punto arrivederci ragazzi al prossimo video Grazie 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 Grazie